Allora qui, allora siamo qui in diretta, guardiamo come diamo fuoco a 5 euro, ma senza, praticamente senza, senza, senza bruciarle, aspettiamo, allora, un attimo che siamo in diretta, stiamo preparando, stiamo guardando qui un esperimento, in pratica abbiamo 5 euro davanti, gli daremo fuoco, ma questa non prenderà fuoco, proviamo a guardare un attimo senza bruciarsi, è un po' di difficoltà però, allora riproviamo un attimo che, vediamo un attimo come va, vai, prova, prova, dai, bagna, dai fuoco, ha preso una quantità di fuoco pazzesco però, dobbiamo farla vedere, allora, li bagniamo, li bagniamo un attimo, questo piccolo esperimento, allora eccolo qui, vai, guardate quanto che fiamma, avete visto? Riproviamo ancora un attimo, ma non si sta, i 5 euro non si stanno bruciando, riproviamo un attimo, allora, qui, via, guardate, impressionante, e i 5 euro sono intatti, riproviamo, riproviamo nuovamente un attimo, Allora, mettili qua sopra, allora, io riprovo a prendere i 5 euro, bagniamo, chiudiamo qui, allora, pronti, via, i 5 euro prendono fuoco, ma sono ancora intatti, Quindi, rifacciamolo l'ultima volta, perché effettivamente, secondo me, è molto molto, se non mi faccio male io, allora, riproviamo, questo è di 5 euro, fuoco, via, ecco, ma i 5 euro ci sono ancora, fine della diretta, ciao. Ciao.